Bene, benvenuti. Dopo che abbiamo visto poco fa come è strutturato il progetto, questo progetto elementare che vedete, dovremo costruire passo per passo da zero. Qui in questo caso me ne tengo degli appunti, me lo tengo aperto come progetto, ma sostanzialmente me ne creo uno nuovo. Quindi faccio nuovo progetto e facciamo movimento video, perché lo faccio per questo video, creiamo il folder, facciamo create and edit e andiamo a costruirci la scena. Ho la scena, facciamo una 3D scene spaziale e qui ci mettiamo il pavimento su cui vogliamo camminare, quello che abbiamo visto prima, quindi facciamo una Mesh, Mesh, Mesh Instance, queste sono Mesh fatte in Godot, se no questa potrebbe essere una Mesh che viene da Blender o da fuori. Gli mettiamo che la Mesh è un piano, vedete che compare il nostro piano, perfetto, e questo piano lo estendiamo, quindi prendiamo questo. Ecco, tra l'altro, una cosa che non so se ho mai detto nel caso, perdonate, questi tasti si possono anche raggiungere queste funzioni dalla tastiera, premendo rispettivamente Q, W, E, R, T e così via. Cioè praticamente questi qui rappresentano proprio la sequenza dei tasti sulla tastiera, quindi se io voglio andare rapidamente sulla scala, in questo caso devo premere R, e mentre E vedete che si muove sulla rotazione e così via. Sembra un po' controsenso perché Blender è diverso, però, insomma, volendo si può aiutare. Allora, se io voglio estendere, quindi voglio fare R e poi trascino per ampliare il nostro piano, e a questo punto lo voglio rendere, voglio metterci una Mesh che rappresenta la collisione. Quindi le collisioni di questo possiamo farlo o aggiungendo, come vedo con Mesh, il Crea Corpo Statico Convesso, piuttosto che Corpo Statico Trimesh. Allora, il Corpo Statico Convesso tipicamente è più, convesso vuol dire che lo fa nella maniera più semplice possibile, quindi nel caso del pavimento è l'opzione migliore. Allora, avendo fatto questo Crea Corpo Statico Convesso, lui ha creato uno Static Body, e quindi abbiamo il nostro piano su cui adesso andremo a lavorare. Ora, un'altra cosa, quindi questo lo saldiamo, facciamo CTRL S, e facciamo che sia il, chiamiamolo Main, Main Scene, cioè la scenda principale che vogliamo poi eseguire. E dentro questa Main Scene adesso vogliamo crearne un'altra, che chiameremo Player, e cominciamo col farla a... vabbè, facciamo una qualunque, poi tanto la possiamo cambiare. Possiamo creare un nodo, che adesso è chiamato Spatial, ma noi possiamo rinominarlo, chiamarlo... no, più che rinominarlo, vogliamo cambiare il tipo, e metterci il Kinematic Body, perché qui, ecco, compare la magia, e questo lo cambiamo, quindi Kinematic, o meno che corre, e lo chiamiamo Player. Ok. Allora, vedete che il Player mancano, e ci aiuta lui, dice che ci manca una Shape, e poi una Collision Shape, ok? Quindi noi facciamo come Shape, ci mettiamo una Mesh, come abbiamo fatto anche prima, questa Mesh, invece di farci il piano, ci mettiamo una Capsula, quindi, dove è la Capsula? Qua. Il problema della Capsula, che è ruotata lungo l'asse X, vedete, quindi su Transform X, gli mettiamo 90 per averla dritta, e poi, probabilmente, visto che siamo già sulla R, per scalatura, la riduciamo un pochino per avere una Capsula un po' più piccola. Poi, clicchiamo sempre su questo, che è il Mesh Instance, che rappresenta la nostra Capsula, volendo possiamo anche cambiargli e chiamarlo Capsula. che però vedete che è una Mesh, il Mesh è questo simbolino a fianco, ci aggiungiamo la sua collision, la sua collision la potremmo farla o mettendo un corpo statico convesso, che però vedete che ha fatto una collision shape, che è un corpo convesso fatto così, in realtà io più che fare così, lo farei, diciamo che farlo in un modo, cioè, gli creiamo proprio una collision shape, fatta a forma di Capsula, che mi sento più sicuro. Quindi facciamo più, gli mettiamo una collision shape, questa, e gli mettiamo come shape, di nuovo, una Capsula. Ecco, la cosa interessante è che facendola in questo modo, lui la crea allineata esattamente come la nostra Capsula, dopodiché, prendiamo questa collision shape, e la mettiamo come sorella della Capsula, quindi questa è la collision shape della Capsula, e questo è il player. E fin qui abbiamo fatto quello che, dunque, facciamo così, clic, ok, vediamo un po' come è messa questa cosa, quindi vedete che lo z va in questa direzione, abbiamo fatto il player, aggiungiamo ora la telecamera, quindi facciamo player, aggiungiamo una camera, ecco, la camera, vedete che è messa lì, ora la camera, essendo che è messa lì, ce la spostiamo, e spostiamola in modo tale che sia un pochino distante dalla nostra Capsula, un pochino più in alto, e poi lo mettiamo che guardi verso la Capsula, in maniera tale da vedere questo. Per capire cosa vede, possiamo cliccare su Anteprima, e vedete che così potrebbe andar bene. Abbiamo detto che ci sta bene se punta verso la testa della Capsula, in modo tale che non punta a metà della Capsula, quindi conviene crearsi qualunque cosa, un nodo, per dire un nodo spascia, questo, che adesso vedete che questo nodo è creato qui, lo alziamo e lo mettiamo verso la testa della Capsula, e questo qui lo chiamiamo, per esempio si chiamava, mi sembra, CamBase, lo chiamiamo anche testa, questo vediamo, questa qui è la testa, è solo un riferimento, e poi vi ho detto che dobbiamo mettere la camera, come figlia della testa, in modo tale da rispettare tutte le convenzioni che abbiamo visto prima. A questo punto dobbiamo semplicemente inserire lo script, e lo andiamo sul player, che è il nostro kinematic, facciamo aggiunta script, player.gd, lo creiamo, e poi qua possiamo andare semplicemente a ricopiare quello che abbiamo di qua. Voi lo potete prendere dall'altro progetto, quindi vado sullo script, e vado a fare CTRL A di tutto questo, e me lo riporto qui, faccio CTRL A, V, ok? Adesso, se abbiamo fatto tutto in maniera corretta, quindi una volta che lo script questo qui funzionava, a meno di eventuali, diciamo, rovesciature dello Z, che adesso probabilmente dovremmo fare, dovrebbe funzionare. Quindi noi andiamo sul main, allora salviamo questo che è il player, quindi player.tscn, andiamo sul main, e qui ci aggiungiamo il player sopra, vedete? lo mettiamo un pochino, ok, sopra il piano, ok? Poi, salviamo il tutto, facciamo il play generale, ci chiederà qual è la scena principale, che da noi sarà main, e lui, ok, ci ha dato un errore, adesso lo vediamo un secondo, ok, direi che l'errore è dovuto al fatto che, qui abbiamo cambiato i nomi, vedete che lo script, ci si aspettava che sotto il player ci fosse testa, con la T minuscola, e camera, era giusta, e adesso non è così, quindi lo possiamo aggiustare così, forse, quindi se gli mettiamo dollaro testa, e proviamo a rilanciare il nostro, il nostro script, ecco, vedete che ci ha dato più errori, quindi a questo punto abbiamo il nostro, la nostra cosa che sta funzionando, freccia in su, freccia in giù, funziona, a destra e a sinistra funziona, salto, sta saltando, quindi questo è il riporto di quello che dovreste fare voi, ora, se vi stufate nell'idea di mettervi a fare, quindi vedete che funzionano tutte le altre cose che abbiamo visto, se l'idea di mettervi a rifare tutto questo player vi confonde, è possibile che voi vi possiate copiare in un altro progetto soltanto le caratteristiche che vi interessano, quindi in questo caso soltanto il player, tscn, e la player.gd, che sono le uniche cose che veramente servono, quindi player.tscn contiene l'elenco di questi oggetti, e il player.gd contiene lo script, e quindi a questo punto siete sicuri di fare qualche cosa che funziona, quindi vediamo un secondo come fare un progetto di questo genere, quindi ci prendiamo, conviene farlo da qua, nel senso che prendete file manager, vedete un po' dove siete, vedete che documents in movimento video, uscite da questo progetto, e usciamo anche da questo, tanto ormai abbiamo visto che funziona, salve e chiudi, rilanciamo il nostro Godot 3.1.rc.2, nel frattempo scaricato, ci facciamo un nuovo progetto, e facciamo terzo esempio, facciamo create folder, create and edit, ok, quindi qua diciamo che uno volendo potrebbe partire con una scena 3D, che c'è uno special, e qui ci fa le sue cose, che abbiamo detto che possiamo riprendere con una mesh, questa magari la facciamo, di nuovo mesh, mesh instance, la instance, gli facciamo un, tanto per dire potremmo fare, anziché il, cosa possiamo fare anche un, un cubo, leggermente diverso, giusto per farlo leggermente diverso, da prima, facciamo un po' più grosso, facciamo W, passiamo, e qui l'idea è di metterci sopra il player, sopra questo, allora questo qui dobbiamo ancora metterci, la, static body, fatto, e poi ecco, supponendo che questa sia la nostra mesh, come facciamo a metterci dentro, il nostro, player, semplicemente andiamo qua, apriamo il file manager, anche di questo, ed è questa la struttura, del nostro progetto, e questo qui invece, è la struttura, questo quindi il nostro terzo esempio, dove non c'è ancora niente, ah, non abbiamo neanche salvato questo, quindi, facciamo che salvarlo, quindi questo qui lo chiamiamo main, ok, perché così ce lo ritroviamo, il main.tscn, riapriamo il progetto, invece da qui vogliamo copiare il player, player gd, e player tscn, e facciamo semplicemente copia, e qui incolla, player gd, player tscn, e questi ce li abbiamo, anche qua, quindi a questo punto, se noi vogliamo in questo spascio, aggiungerci il nostro, player, gli mettiamo player, e vedete che si è forzato dietro, sia il player che lo script, ma ovviamente qui, andiamo un po' su, e quindi se noi lanciamo il main, allora diciamo, se lanciamo il main, quindi da qua, ci chiede di avere la solita scena principale, e noi abbiamo, vedete che si sta funzionando, tale e quale, ecco così abbiamo, non abbiamo neanche dovuto, non abbiamo neanche dovuto, ricostruire la scena, abbiamo soltanto dovuto copiare, copiare i due file, che sono quelli della capsula, allora con la capsula direi che siamo a posto, quello che potrebbe a questo punto, essere una cosa da vedere, se volete, è appunto l'animazione, invece, del, cioè se avete veramente un, o qualche cosa che si anima, tipo il gatto, invece vi farò un altro video, in cui vi faccio vedere, come applicare quello script, al nostro gatto, quindi bisognerà fare una piccola modifica ancora, questo sarà un altro argomento, quindi al momento abbiamo, lo script che ci stiamo portando dietro, non tratta di animazione, ma tratta soltanto del movimento, vedremo che il movimento, in realtà basterà soltanto capire, se ci stiamo muovendo, quindi se è stato fatto un salto, si va sull'animazione del salto, e se ci muoviamo, e lo sappiamo, perché la velocità, c'è un certo movimento, che ha una certa velocità, quindi possiamo lavorare, su questo move back, insomma capire, quale animazione usare, comunque alimento lo vediamo tra poco, per questo è tutto, e speriamo che riusciate anche voi, a far muovere, con questo piccolo script, la vostra capsula, e girarci attorno. Grazie.